Vediamo se il bambino fa il bravo. Che c'è? Hai comprato il materasso duro. Non era quello che volevi? Sì, certo. Ma tu perché l'hai fatto? Beh, perché... È una domanda tra bocchetto. Dovevi scegliere tu. Dovevi comprare quello che volevi. Ho comprato quello che volevi tu perché ti amo. No. Lo hai fatto perché è il tuo modo di essere. Con le tue ex moglie hai fatto tutto quello che volevano perché era più semplice e hai finito per detestarle. Non ti azzardare a farlo con me. Ma cosa? Prendermi cura di te? Ancora non mi conosci? So badare a me stessa. E voglio che cominci a farlo anche tu. Ho del lavoro da fare. Parlo tu o hai. No, ma non. Le tue. Grazie a tutti